Chiarire la posizione sulla possibile delocalizzazione a Battipaglia delle fonderie Pisano e la richiesta avanzata all'amministrazione comunale dal Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico dopo le numerose indiscrezioni apparse sugli organi di stampa. Il Comitato e i cittadini sono preoccupati del già martoriato territorio battipagliese, afferma Panico. Nella nostra città troppi sono stati gli accordi scellerati che hanno permesso di tutto a discapito della salute dei cittadini.